Musica Persone benedette, la notte è passata per tutta la notte, il Signore Onnipotente Dio Yahweh Elohim mi ha parlato, persone benedette, e in questa conversazione, la notte è passata per tutta la notte, veramente, fino al mattino, il Signore Onnipotente mi ha parlato riguardo Israele. Il Dio Yahweh mi ha portato in Israele, e quando mi ha portato in Israele la notte è passata, mi ha fatto vedere che c'è una guerra che sta per iniziare, una guerra grande. Vedo come il Signore mi porta là, sono rimasto in uno degli alberghi, e mentre ero là ho visto un grande panico, vedo le persone con armi e arriva un grande panico, inizia un panico, le persone cominciano a correre, mentre fuggono, e poi viene bloccata l'autostrada perché c'è un attacco, e vedo le forze dell'ordine con armi, e c'è un'esplosione più avanti, e un'enorme esplosione, e la nuvola di fumo sale in alto, e un fumo scuro sale molto in alto, quando c'è l'esplosione per questo attacco, e tutti i veicoli sull'autostrada sono fermi in Israele, e poi vedo le persone correre al lato della strada, c'è un grande panico in Israele, vedo un attacco grave, grave in arrivo in Israele, i veicoli sono bloccati, non so se nella parte nord di Israele, ma i veicoli sono bloccati, l'autostrada è bloccata, e più avanti c'è un'esplosione, e la nuvola del fumo sale in alto, e poi le persone cominciano a correre, provano a fuggire, ma non riescono perché l'autostrada è bloccata, c'è una guerra seria che sta per iniziare in Israele, il Signore mi fa vedere questo ripetutamente, e vedo gli israeliti che vengono da me e chiedono, mi dica questa guerra, come andrà? Il Signore porta la casa di Giacobbe a chiedere a me, che cosa andrà, come andrà questa guerra, è una cosa molto seria, un momento molto serio, e ripetutamente il Signore mi fa vedere questa guerra che è in arrivo, questa guerra che sta per accadere, l'autostrada è bloccata, veicoli fermi, persone corrono al lato della strada per nascondersi, con paura, escono dalle macchine per l'esplosione, quindi è un momento molto serio, c'è una guerra da iniziare, c'è già la guerra in corso, ma ora il Signore ha sottolineato questa guerra in particolare, in un modo molto serio, potente e terribile, quindi c'è una guerra in arrivo in Israele, un altro livello di guerra, vedo le persone correre, l'autostrada è bloccata, tre ufficiali tengono fermi i veicoli, sono vestiti in nero, c'è stata un'esplosione, la nuvola del fumo sale molto in alto, c'è stata un'esplosione e il fumo sale molto in alto, questo fumo scuro in Israele, questa è una cosa molto seria, molto molto seria, voi sapete bene che per la Chiesa Israele è un indicatore importante per la gloriosa venuta del Messia, quindi gli eventi non accadono in vano in Israele, ma servono per trasmettere un messaggio per la Chiesa che dovete prepararvi per la gloriosa venuta del Messia, gli eventi che accadono proprio ora in Israele dovrebbero essere un indicatore per la Chiesa di Cristo globalmente per svegliarsi e praticare ravvedimento e santità, ricordatevi che quelli che rifiutano il ravvedimento, come il Signore risponderà a loro, è assolutamente chiaro, avete visto in Apocalisse che durante la tribolazione il Signore viene a giudicare chi non si è ravveduto, cioè il mondo che rifiuta Cristo, ricordatevi che Cristo significa ravvedimento, la croce è ravvedimento e il sangue di Gesù è ravvedimento, intendo dire che non potete rifiutare ravvedimento e santità e poi pensare di poter entrare nel glorioso regno eterno del Dio Onnipotente, questo è un avvertimento molto importante per la Chiesa, devono prepararsi, il Messia viene, ma ripeto, il Signore mi ha portato per tutta la notte in Israele, fino al mattino, mi ha fatto vedere questa guerra molto seria che sta per iniziare, c'è una nuvola di fumo, veicoli fermi, questa nuvola di fumo enorme che veramente sale in alto una cosa molto seria persone fuggono dai veicoli e è incredibile si nascondono corrono al lato della strada per l'esposione e poi le persone nelle case e hotel sono in panico tutti corrono e sono in panico corrono e sono in panico c'è una guerra seria che sta per iniziare in Israele di un altro livello di ciò che avete visto finora e la Chiesa dovete capire che è un indicatore importante che dovete ravvedervi da ogni tipo di peccato abbandonare questo modernismo questa salvezza moderna apostasia, superficialità che sono entrate nella Chiesa cristiana nella salvezza cristiana dovete tornare alla salvezza fondamentale del croce e sangue dovete tornare alle cose fondamentali della salvezza al ravvedimento e santità e questa è un'opportunità per tutti per ravvedersi in quest'ora non importa cosa è successo un minuto fa ma questo è il momento di ravvedersi è un momento per abbandonare completamente il peccato abbandonare il peccato e prepararsi per la venuta gloriosa del Messia perché il tempo è scaduto ma vedo un'intensificazione della guerra in arrivo in Israele una situazione molto seria veicoli bloccati sull'autostrada un'esplosione e il fumo sale in alto persone corrono è impressionante il Messia viene grazie grazie a tutti Grazie a tutti.